Radio Radicale, siamo con il senatore Piero Antonio Zanettin di Forza Italia per parlare del governatore della Liguria Toti che è ancora distretto ai domiciliari. Allora, l'ipotesi è quella di un giudizio immediato e che la carcerazione preventiva prosegua. Intanto Toti ha chiesto di vedere degli esponenti politici, ha chiesto ai magistrati. Allora, è una situazione paradossale perché è come se i magistrati dicessero a Toti, se ti dimetti noi di... Diciamo che il presupposto per la carcerazione preventiva che era stato ventilato con l'ordinazione di custodio del cautelare era il fatto che essendoci delle elezioni imminenti da parte di Toti ci potesse essere qualche attività che poteva essere, secondo la prospettazione dei magistrati ovviamente, illegale. Ora le elezioni non sono più alle porte e non si capisce quali esigenze cautelari inducano i magistrati a rifiutare la revoca della custodia cautelare in caccia dal momento che ormai si sono consolidate le prove e il presidente della regione potrebbe tranquillamente tornare a fare il presidente della regione senza che poi il procedimento possa essere né inquinato né possa reiterare il reato. Quindi pare abbastanza abnorme quanto sta succedendo, paradossale per certi versi sull'uso che viene fatto. Se noi leggiamo questo accanimento per i domiciliari, come dobbiamo leggere la vicenda della chiusura delle indagini che era a dicembre e l'avvisa di garanzia è arrivato qualche mese dopo? Allora abbiamo capito leggendo le carte che in realtà la richiesta di custodia cautelare era di dicembre, poi però probabilmente il giudice non l'ha ritenuta adeguata e ha chiesto delle integrazioni e quindi è slittato molto il termine proprio a ridosso delle elezioni. Devo dire che questo da fatto mi ha fatto ricordare come in modo ben diverso si comporta Nordio per esempio in occasione dell'inchiesta sul Mose, quale aspettò di eseguire le ordinanze di custodia cautelare immediatamente dopo la celebrazione delle elezioni, proprio per non inquinare il dibattito politico non è stata adottata questa insensibilità dai magistrati genovesi invece. Adesso che cosa succede? Ritiene questa una situazione paradossale e pensa che il riesame potrà cambiare qualcosa? Io credo che l'avvocato di Totti abbia sicuramente fatto ricorso al riesame e ove il riesame confermasse questa circostanza farà ricorso in Cassazione. Io mi auguro e spero che con res mellius perpensa valutata meglio la situazione Totti possa tornare a svolgere la sua funzione di presidente eletto della regione Liguria e nel frattempo il procedimento potrà seguire il suo corso dal momento che ormai i dati probatori sono stati acquisiti, possibilità di inquinamento probatorio non ce n'è. Non è anche di fuga voglio dire, se lui resta in carica non c'è mai visto uno che resta in carica che scappa. La fuga credo che non l'abbia mai considerata nessuna una ipotesi plausibile e quindi da questo punto di vista ci potrà essere un iter normale del procedimento penale senza l'uso ricattatorio per certi versi della carcerazione preventiva che noi abbiamo sempre condannato. Si ricorda un caso in cui un esponente politico, un uomo dell'istituzione ha tenuto così duro rispetto, perché molti altri sarebbero crollati? Insomma non è una situazione... Certo, diciamo che un certo vantaggio Totti ce l'ha per il fatto che è i domiciliari, perché altri politici poi crollarono soprattutto ai tempi di Tangentopoli Qualcuno si suicidò anche? Si suicidò anche, quando erano ristretti all'interno del carcere la condizione è certamente più dura, ma certamente Totti sta dimostrando una linea coerente nella propria linea difensiva e credo che le carte fino ad oggi non abbiano dimostrato, almeno per un lettore distratto o comunque soltanto dei giornali, come sono io, io non ho letto gli atti processuali, ma mi pare che la situazione sia fluida ecco, non mi pare che sia stato accertato l'ipotesi di reato in modo così netto. Senta, come ritiene quell'equivo che c'era stato sul verbale di Spinelli? E va bene, ma quello, guardate, è un equivoco Capitano spesso? Capitano spesso, per questo bisogna sempre rileggere quello che risulta verbale, anche perché, ahimè, ormai con l'utilizzo di queste tecnologie non è più neanche l'uomo, perché da quello che si è letto pare che fosse una trascrizione che nasceva da una forma, cosa dire, di intelligenza artificiale che ascoltava, che poi... Sono autorizzate? Sì, sì, sono autorizzate tranquillamente, però poi ci si rischiano veramente degli errori tragici in queste situazioni se non c'è un avvocato che è di legge tenuto conto della mole e della complessità degli atti certo, è molto certo che i costi che può avere un imputato per difendersi li evitano in modo stratosferico perché evidentemente occorrono professionisti che si dedichino 24 ore al giorno a tutela delle loro ragioni Consigli a Totti di tenere dura? Io non devo considerare niente a Totti perché lui è sicuramente assistito da validissimi avvocati io apprezzo la sua linea difensiva che mi pare molto coerente Grazie e ringrazio il senatore Pierantonio Zanettin di Forza Italia E io ringrazio Radio Radicale per l'ospedità Grazie Grazie